Ora di farlo. Fuori dalla mia. A casa. Tu... dovrai ammazzarmi se vuoi che sparisca. Te l'avevo detto. Non importa. Tu non mi ascolti. No... 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 E ora... Tocca a me! Che delusione incredibile! Fatti sotto! Inutile! Dimmi a noi! Non vuoi provarci? No... Voi! Non mi ascolti! Che delusione! Se... Voi! 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 No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, no, no! No, no, no! No, no, no! No, 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 no! 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 No, 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 no! No, no, no! No, 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 no Non ho tempo per questo! Inutile! Sei una noia mortale! Cosa nascondi? Non ho tempo per questo! 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 Mi servivano solo delle risposte! Ma tu hai fatto l'eroe! Non mi importa che mi farai! Io mi rialzerò sempre! Il corpo ormai vecchio cederà! Ma prima... Sappi... che non posso sentire niente di tutto questo! Non ho tempo per questo! Niente può farlo! Questa lotta è inutile! I tuoi sforzi sono inutili! Sì! Non doveva andare così! Non puoi! Io non sento niente! Sì! Ma tu sì! Eppure... continui a provare! Io non sono mio fratello! Se tu mi avessi dato tutto ciò che volevo! Non sarebbe finita così! E invece... Non puoi battermi! Non puoi battermi! Millennio a loro se sentire! Per tanto siente! Mlocanza! Siente! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.